Muove ancora la classifica il Montegiorgio, nel recupero della 22esima giornata i Rosso Blu trovano il settimo risultato utile consecutivo, impattando sullo 0-0 tra le Muramiche contro il Trastever, seconda forza del campionato. I Rosso Blu di Mengo, orfani dell'infortunato Zerbo, hanno letteralmente dominato la prima parte di gara, dove è mancato solo il gol. Nella ripresa i Capitolini hanno alzato la voce, ma un po' forconesi e un po' una mira così così, anche la porta del Montegiorgio è rimasta inviolata. La partita, seppur priva di gol, ha riservato alcune emozioni degne di nota. Come già detto, il Montegiorgio è la squadra più pericolosa nei primi 45 minuti. Infatti ne bastano appena 4 per creare la prima occasione da rete, con Marchionni, che riceve parla da Misin, l'attaccante Rosso Blu è brava a stopparla e girarsi in un fazzoletto, ma la conclusione è murata. Il match fatica a decolare, i ritmi bassi portano le squadre a commettere alcuni errori banali in fase di impostazione, ma bisogna attendere il 23esimo per segnalare un'altra occasione. Tutto nasce da un appoggio di Marchionni, poi la palla finisce sui piedi di Santoro, che arriva in corsa, ma spara alto. Occasione d'avviare un ghiotta per il Montegiorgio, che flirta con un gol che si fa ancora attendere e mai arriverà. Al 31esimo ci prova Zancocchia, con un colpo da Fuzza a beffare Sembrini, ma non inquadra la porta. L'ultima palla-gold del primo tempo capita sempre al Montegiorgio, al 37esimo. Grande giocata di Albanesi che si accentra, serve Marchionni, ma ancora una volta viene murato dallo porto, che si immola sulla conclusione. Dopo un timido primo tempo, nella ripresa il Trastevere inizia a trovare più coraggio e al nono approfitta di una doppia chance, prima con Macri, con Forconesi bravo a parare come può, poi sulla ribattuta si fionda Fioretti, che spara sopra la traversa. Sbantano i locali, che al 13esimo rimediano all'incomprensione tra Bertole e Forconesi, con quest'ultimo che liscia il pallone e Perini rimedia. Ancora Trastevere avanti, due minuti dopo, Chinappi, a botta sicura, trova la risposta di Forconesi, bravo in questa circostanza. Il portiere rosso-blu soffre un sospiro di sollievo al 33esimo, sul colpo di testa di Macri, che lasciato colpevolmente sol in aria, non trova il palo più lontano. Dopo un'intera ripresa di sofferenza, il Montegiorgio, tre minuti dopo, si ritrova la palla a gol per portarsi avanti, gran passaggio di Misini per Perpepai, che per poco non inquadra la porta. I rosso-blu ci provano nel finale, ma la benzina residua è poca e allora, al triplice fischio, si accontenono di un punto che serve per muovere un po' la classifica e fa felice indirettamente la re canatese, che a pochi giorni dallo scontro diretto al vertice si ritrova a più sette sul Trastevere.